Ciao a tutti, benvenuti nel mio podcast settimanale. Oggi esploreremo il ruolo cruciale del comitato di vigilanza di meta, leggi Facebook, nell'affrontare il fenomeno sempre più diffuso del deepfake, con particolare attenzione ai casi riguardanti le celebrità e le politiche di moderazione della piattaforma. Quindi partiamo. Hai mai sentito parlare di deepfake? Immagino di sì. Queste immagini e video manipolati dall'intelligenza artificiale possono creare una serie di problemi, soprattutto quanto riguardano personaggi pubblici come ad esempio Taylor Swift, la famosa cantante americana. Oggi infatti ci immergeremo nei dettagli di come meta la società madre di Facebook, come ti dicevo prima, e Instagram sta affrontando questa sfida. Questo comitato di vigilanza, noto come Oversight Board, ha assunto un ruolo fondamentale nell'analizzare le politiche e le azioni pratiche di meta riguardo ai deepfake, che coinvolgono le celebrità. Il board ha preso in esame due casi significativi. Nel primo caso, un post su Instagram mostrava un'immagine generata dall'intelligenza artificiale di una donna indiana, senza specificare chi fosse. Dopo che un utente ha presentato ricorso al board, meta ha rimosso il post. Nel secondo caso, un post su Facebook in un gruppo dedicato all'arte dell'intelligenza artificiale ha mostrato un'immagine simile a una celebrità americana nuda, anche se il nome non è stato esplicitamente menzionato. Anche questo post è stato automaticamente rimosso, ma naturalmente l'utente ha fatto ricorso. Perché questi casi sono così significativi? Beh, il board ha dichiarato che vuole verificare se meta sta proteggendo tutti gli utenti, bravi, in modo equo e efficace a livello globale. Ciò include l'esame di come meta modera i contenuti in diversi mercati e lingue, riconoscendo che ci sono disparità nella velocità ed efficacia della moderazione. Nelle prossime settimane il comitato di vigilanza pubblicherà le sue decisioni su questi casi, insieme a raccomandazioni politiche appunto per l'azienda. Nel frattempo, meta si prepara ad affrontare questo problema molto importante in maniera proattiva, prevedendo di iniziare a mostrare i contenuti generati dall'intelligenza artificiale con relative etichette a partire da maggio 2024. Insomma, questo è solo l'inizio del dibattito su come proteggere l'integrità dell'immagine online in un'era sempre più dominata dall'intelligenza artificiale. E quindi non mi rimane che dirvi restate sintonizzati, come si diceva una volta, per ulteriori aggiornamenti su questo importante argomento. Grazie per avermi seguito, ci sentiamo la prossima settimana.